Salve! Mi sono trasferito a Milano, sì esatto Tanto mi scuso per l'eco, non ci posso fare niente perché ho la stanza a mezza vuota Appena comprerò qualche mobile in più dovrebbe sparire Mi sono trasferito finalmente a Milano, eh sì dopo mesi e mesi mi sono trasferito finalmente Per l'esattezza oggi sono qui da 6 giorni, quindi vivo da solo da 6 giorni Sono cambiate tante cose in questi 6 giorni, però dai mi sto abituando a vivere da solo E allora di cosa parliamo in questo video? Volevo un attimo riassumere tutto quello che accadrà e che è accaduto in questi giorni Mi sto evolvendo io, sto cambiando parecchie cose della mia vita Il canale che è il riflesso della mia vita ovviamente cambierà di conseguenza Quindi vivo da solo, vado all'università qui a Milano Che cosa c'è di meglio se non raccontare la mia storia, raccontare il mio punto di vista Anche perché il mio obiettivo è sì raccontare il mio punto di vista Ma lo sto facendo perché voglio regalare, voglio dare valore alle persone che stanno guardando questo video Per ringraziarle E quindi tutti i miei contenuti saranno sempre di più improntati a dare qualcosa a chi sta guardando Perché ovviamente il tempo è limitato e tutti noi potremmo fare qualsiasi altra cosa Invece se state guardando questo video io vi ringrazio Perché state dedicando del tempo alla mia storia, al mio punto di vista E come non ringraziarvi se non dandovi qualcosa di realmente utile anche a voi Questo è il mio obiettivo e ci tengo a dirvelo con molta trasparenza fin dall'inizio e fin da adesso Perché è una cosa molto importante per me e voglio che sia chiaro a tutti Quindi detto questo dai parliamo un attimo dell'università Io studio all'università Bicocca di Milano e il corso di laurea che sto seguendo è scienze statistiche ed economiche È un ibrido tra statistica ed economia E i primi due corsi che si frequentano sono analisi 1 e statistica 1 Premettendo il fatto che io mi sono saltato due settimane di lezioni Quindi sono un po' indietro Però sto avendo abbastanza difficoltà nel studiare statistica 1 Che poi non è così complessa come materia Quindi non spaventatevi Però sto avendo difficoltà sia dato dal fatto che non ho frequentato per due settimane Ma in più io statistica non l'ho mai studiata a scuola precedentemente quindi al liceo E quindi sono tutte nozioni nuove Anche perché nella mia ignoranza la statistica si fermava alla media aritmetica per dirvi Quindi sto avendo un po' di difficoltà Invece il secondo corso è analisi 1 Non ho troppe difficoltà perché comunque l'ho studiata al liceo È una cosa che conosco anche se marginalmente però mi riesco ad orientare meglio Chiudendo il capitolo università che poi piccola postilla tra l'altro Già a novembre ho i primi due parziali da dare Quindi ansia sempre Parliamo un attimo anche del vivere da soli Perché secondo me è una cosa molto interessante E ci tengo anche a raccontare il mio punto di vista Perché io ho 18 anni Praticamente fino a un mese fa vivevo a casa di mamma E adesso mi sono buttato in questo mondo nel vivere da soli dell'indipendenza Praticamente qui a Milano sono da solo Io abitavo in Sicilia quindi la mia famiglia è a migliaia di chilometri di distanza Praticamente devo contare in questo momento fisicamente solo su me stesso Ed è un po' una cosa particolare Ancora mi sto abituando Però mi sto ambientando Penso sia una cosa normale Dai sto qui da sei giorni quindi va bene E quindi documenterò questo percorso del vivere da soli Magari raccontandovi qualche chicca Qualche cosa che mi capiterà poi nelle prossime settimane, nei prossimi mesi Un'altra cosa poi nel vivere da soli Che è più intacca la mia passione per l'economia Infatti sto tenendo un bilancio chiaro e preciso di tutte le mie spese Tutto diviso in varie categorie Spesa, supermercato, mangiare fuori, vestiti Ogni volta che spendo dei soldi lo segno nel foglio di calcolo di Excel Questo perché il mio obiettivo per l'anno prossimo È avere un resoconto annuale delle mie spese Sono molto curioso di capire più o meno all'incirca quando spendo mensilmente E quindi ogni mese documenterò le mie spese mensili Nel particolare documenterò i soldi che un ragazzo 18enne può spendere Vivendo da solo a Milano Ovviamente non è una mia idea originale perché ho preso spunto da altri youtuber Però penso che dare il mio punto di vista delle mie spese Che sono un ragazzo 18enne che vive da solo a Milano Penso che sia un punto di vista differente Quindi ok l'idea è simile però la sostanza poi sarà completamente differente Comunque tutto questo appena finito il mese di ottobre ne parlerò in un video specifico Dove poi vi farò vedere le spese che ho fatto ad ottobre E ci tengo a farlo ogni mese in modo tale da dare una visione chiara di tutte le mie spese E quindi documentando mensilmente le mie spese magari posso dare delle informazioni utili A chi si vuole muovere, si vuole spostare, vuole vivere qui a Milano Però non sa chiaramente quanto si potrebbe spendere Anche perché io vivo a Milano ed è una città dove la vita costa parecchio Quindi ci tengo anche a fare dei video Magari spiegarvi qualche trucco, qualche segreto Per magari spendere di meno e risparmiare dove si può Perché parliamoci chiaro qui costa tutto tanto Però se si attenti nel scegliere cosa si compra E quindi comprare, fare una spesa intelligente Può farci risparmiare parecchi soldi Quindi questo è anche un altro obiettivo Perché voglio documentare i miei esperimenti per cercare di risparmiare E vivere a Milano che è una delle città italiane più costose Detto questo se state guardando il video fino a questo punto io vi ringrazio E vi chiedo di lasciare un mi piace e di iscrivervi Se siete interessati a guardare questo tipo di contenuti E quindi non perdervene neanche uno Anzi in più attivate la campanella perché ormai l'iscrizione non basta più Quindi se attivate la campanella vi arriva la notifica di quando esce il video E così non vi perdete pubblicazioni E evitate di perdervi magari materiale interessante che vi serviva Detto questo io torno a studiare Visto che ancora vi mancano parecchi appunti da ricopiare Ciao a tutti